allora diciamo che per cominciare ho scelto due elementi a mio parere estremamente rappresentativi di quello che può essere Expo 2015 due elementi simbolici lo vedete questi sono degli enormi totem 22 statue i guardiani del cibo che lo scenografo tre volte premio oscar dante ferretti ha costruito proprio all'ingresso di Expo il popolo pacifico dell'alimentazione lo potremmo definire così ecco naturalmente l'altro simbolo lo stiamo vedendo è quello molto più rituale dell'albero della vita che Marco Balic ha mutuato dal disegno Michelangelesco e che con i suoi 37 metri in legno e acciaio le losanghe che culminano in una stella più grande a 12 punte che simboleggiano appunto le costellazioni è situato nel Leica Arena ed è il simbolo dell'Italia a Expo allora totem, simbolismi, installazioni, opere d'arte insomma questo per dire che Expo è anche cultura e c'è un fattore culturale in effetti spesso sottovalutato come nasce il cibo, dove nasce il cibo ecco c'è davvero immediato per tutti questo legame tra alimentazione e agricoltura allora la partecipazione di Federuna Coma a Expo 2015 a mio parere si può leggere proprio sotto questo profilo e sarà un pochino il viaggio che faremo insieme partendo proprio da questo assioma terra, cibo, agricoltura, meccanizzazione, input tecnologici per migliorare ambiente, produzioni, qualità, sicurezza e possibilmente anche uguaglianza sul pianeta 13 milioni di ettari, questa è la piccola grande agricoltura italiana piccola perché rappresenta appunto per quello che riguarda in termini di terreni coltivabili il settimo posto nel continente eppure lo sappiamo abbiamo i prodotti migliori il più gran numero di DOP e di GP e in parallelo c'è anche un altro fiore all'occhiello che è rappresentato dall'industria della meccanica agricola Federuna Coma ha appunto investito per essere ad Expo e tra l'altro con molte delle sue aziende in particolare qui vediamo uno degli allestimenti che rappresenta la partecipazione a quella che è la mostra di Federa Alimentare Cibus a Italia quindi ancora in maniera più stretta la connessione appunto tra alimentazione e agricoltura una bella rappresentanza di quelle che sono alcuni dei comparti principali aderenti appunto a Federuna Coma che rappresenta la meccanizzazione agricola davvero in tutte le sue sfaccettature c'è anche naturalmente una presenza e una partecipazione istituzionale che tra l'altro si allarga anche qui accanto dove c'è il padiglione della biodiversità padiglione che tra l'altro ha visto l'allestimento appunto di Bologna Fiera e quindi c'è questa partnership che in qualche modo poi continua non per nulla EIMA International che arriverà poi con la prossima edizione nel 2016 appunto come contesto fieristico come vetrina la Fiera di Bologna L'obiettivo di Federuna Coma abbiamo detto che è quello di superare la separatezza e allora nasce questa dimensione culturale, commerciale, espositiva, conoscitiva e per conoscere meglio magari un sorriso aiuta e allora c'è questa bella partecipazione alla mostra di Confindustria Fab Food, la fabbrica del gusto italiano in cui si gioca, si impara e naturalmente sorridendo si riesce anche a capire meglio qual è il funzionamento dell'intera filiera agricola compresi proprio tutti quanti gli anelli tra l'altro è un modo per raccogliere le varie generazioni per fare capire loro come può nascere insomma un chicco di grano o un bicchiere di vino e abbiamo raccolto per farvela ascoltare in questa occasione una piccola testimonianza di un ragazzino se la regia ce la propone avrei piacere di condividerla con voi Perché hai scelto questo gioco e questa sezione? Perché mi piace l'agricoltura Davvero? Ma sei figlio di agricoltori o ti piace solo così? Beh, anche nipote Ah, nipote di agricoltori e quindi... Ma che bello, sei la più bella testimonianza di questa expo e ti è piaciuto questo giro a Fat Food? Sì, anche perché è un ciclo di una pianta che ci impara come dobbiamo sfruttare le cose che ci regala la natura Molto bene, senti, vuoi salutare lo zio che in questo momento sarà molto orgoglioso di te o il nonno visto che sei nipote? Saluto mio nonno e lo ringrazio per questa possibilità che mi ha dato di imparare a conoscere bene la natura Ma c'è anche un fuorisalone EIMA Showforexpo sulle colline di Castellarquato a Bacedasco Basso in questa bellissima azienda Viti Vinicola che si sta preparando ad accogliere il 3 e il 4 luglio prossimi oltre 30 industrie costruttrici in diversi settori che parteciperanno con le migliori tecnologie con oltre 50 modelli di macchine, attrezzature agricole che si potranno vedere al lavoro tra i filari di vite qui alla mia destra e in campo aperto qui alla mia sinistra Una grande manifestazione dedicata ad agricoltori, contoterzisti, operatori economici, italiani e stranieri sono attese infatti delegazioni da Australia, Cile, Corea del Sud, Egitto, Russia, Sudafrica e Stati Uniti che qui all'azienda La Camina potranno appunto vedere al lavoro i mezzi meccanici confrontarsi con i tecnici delle case costruttrici e verificare sul campo peraltro in situazioni molto complesse le performance di trattrici e mezzi semoventi adatti ad ogni tipo di lavorazione